Gli scambi commerciali tra Italia e Russia muovono 20 miliardi di euro all'anno. Noi importiamo quasi esclusivamente energia, mentre esportiamo soprattutto prodotti agroalimentari e abbigliamento. Ma uno dei settori più colpiti dalle sanzioni verso Mosca è quello dell'automotive. Ci spiega il perché Dario Gallina, il presidente della Camera di Commercio di Torino, nel cui Interland risiede il più grande polo automobilistico italiano con migliaia di aziende che si occupano di componentistica e progettazione. L'export verso la Russia vale per il Piemonte oltre 600 milioni di euro. All'interno di questa quota di export c'è una grande parte manifatturiera anche della componentistica e del settore automotive che nella nostra regione, come sappiamo, vale circa il 40% di tutto l'automotive italiano. Poi ci sono degli accordi pluriennali anche nella progettazione che purtroppo, essendo verso controparti russe, dovranno essere fermati e sospese e non si sa per quanto tempo. Un fattore che invece incide trasversalmente sulle imprese è l'aumento del prezzo dell'energia. A marzo 2021 un kilowattora costava poco più di 60 euro. Un anno dopo siamo arrivati a 453 euro, una crescita esponenziale, anche solo se si considera l'ultima settimana, il primo marzo, il costo di un kilowattora era di 271 euro. L'energia è un problema grandissimo che sta prendendo un'impennata che purtroppo mette veramente in discussione le produzioni, specialmente qua in Italia dove abbiamo un costo di energia più alto. Molte aziende hanno deciso di sospendere l'attività piuttosto che produrre perché sarebbero in perdita. Bisogna che il governo si attivi più tempestivamente, come è stato fatto negli altri paesi, per assegnare alle aziende più energie delle quote di energia a un costo calmierato, come è avvenuto in Francia. In questo contesto internazionale quanto possono resistere le aziende? Non molto, perché i costi di energia impattano giorno per giorno sui costi di produzione delle aziende. Massimo Postiglione, Sky TG24, La Loggia, Torino.